ben ritrovati all'appuntamento con salva un amico siamo al parco canile empa di monza in compagnia di stefania e della piccola mulan ciao cucciola esatto lei è proprio piccolina perché non ha ancora tre mesi appunto è una femminuccia diventerà una taglia media noi pensiamo intorno ai 25 kg comunque una è una pastorina quindi super giù una taglia media quella è la sua storia stefania allora lei è appena arrivata da noi quindi da qualche giorno e da noi e fa parte di una cucciolata di 5 tra cui tutte sono femminucce tranne un maschietto e loro provengono da un'altra sezione di empa in modo che noi possiamo diciamo dargli visibilità e fare in modo che vengano adottati velocemente che esigenze ha questo cagnolino allora ovviamente allora lei la prima cosa che c'è da dire è che è una cucciola abbastanza sicura di sé quindi è già brava per l'età che ha anche a camminare al guinzaglio ad esempio gli vanno fatte fare sempre esperienze graduali in modo che non si spaventi e così che possa imparare piano piano tutto praticamente però sappiamo che i cuccioli insomma sono molto impegnativi quindi bisogna prepararsi a diversi magari mesi di cac e pipì dobbiamo essere noi bravi ad abituarla a sporcare solo all'esterno a tanti giochi e sicuramente ha tanto tempo da da passare con lei qual è la famiglia ideale per lei appunto oltre una famiglia che abbia tanto tempo da passare con lei allora potrebbe essere idonea anche una famiglia che magari non ha mai avuto cani anche se noi ci teniamo sempre appunto a ricordare il fatto che un cucciolo crescere un cucciolo è molto impegnativo però lei ha una buona base di partenza sicuramente vanno bene anche famiglie con i bimbi che deve devono essere ben educati nei confronti del cane ha maggior ragione che lei è piccolina quindi dormirà comunque molte ore durante durante la giornata oltre che giocare e mangiare e nulla poi sicuramente è una cosa importante anche abituarla a stare gradualmente da sola quindi un pochino per volta dovrà acquisire anche un po' di indipendenza e per quanto riguarda esigenze alimentari allora lei adesso essendo ancora così piccolina mangio tre volte al giorno principalmente cibo secco crocchette per cuccioli e sono tutte le buone forchette quindi le lucidano sempre per bene le ciotoline benissimo vaccinazioni e quant'altro allora loro verranno affidati col libretto sanitario in cui poi c'è scritto tutto comunque ovviamente sono già microcippati vaccinati quindi sono proprio pronti a trovare una super famiglia benissimo prima parlavi di educazione eventualmente voi potete anche dare una mano in questo dare indicazioni su dove a chi rivolgersi per un percorso che possa aiutare questi cuccioli a crescere bene assolutamente anzi sarebbe un'ottima cosa soprattutto per chi magari non ha mai avuto un cane noi abbiamo una serie di educatori istruttori che svolgono delle ore di volontariato all'interno della struttura quindi in caso di bisogno saremmo felici di dare i loro nominativi per avere un aiuto benissimo allora speriamo che mulan possa presto trovare una casa per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il parco canile empa di monza al numero 039 835 623 oppure inviare una mail a canile chiocciola empamonza.it Grazie a tutti Grazie a tutti